maicol che cos'hai signor maggiamelle che senti? devi fare video lezione oggi perchè oggi è video lezione e perchè devi fare video lezione? perchè questa qua natura fa schifo eh? signore eh amico e jonathan sta giocando ai mini giochi a dragon ball se non mi interessa jonathan si squaglio dragon ball ah ah che cos'è qua eh eh cos'è si squaglio tutte le stesse nonno aspetta nonno aspetta nonno aspetta no nonno ma perchè? devi studiare oggi devi fare video lezione a studiare non ci fai tutte minchiate eh guarda facciamo un bordello qua bordello qua ecco bordello si squaglio tutto vergognati sei pazzo sai uh 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 e tarì queste cose sono tutte minchiate minchiate eh papà guarda se ce la fate migliore che faride eh ah ti squaglio tutto che passo sai ti squaglio tutta la spicca e frate ne hai eh guarda guarda non fai bordello qua bordello qua tu bordello eh guarda guarda facciamo un bordello qua ecco più bordello bordello qua ecco un bordello vergognati ho tutto e 8 su 7 giorni a 9 ti sceglo stesso ahhh fai vai vai fai lezione subito no mh 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 m quante copite hai? che cosa? io ti squaglio tutto quelle cose idiota! scieco! non si dicono queste cose su youtube se ne mangia mele guarda che faccio guarda che faccia e guarda continuo smetto eh? dillo tu decidi tu eh? se ne mangia mele guarda che disastro guarda se ne mangia mele che cosa hai combinato eh? ora fai i compiti ora! o fai i compiti o ti squaglio tutto ancora! no basta basta ti danghidi basta non ti prego basta fare la provvedizione perché è tutto caos ah basta ti danghidi smettila nonno sei pazzo eh dè 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 questo si chiama chiave inglese ricordalo ah ricorda ah ricorda ti devi insistere qua tutto il bordello qualcosa che ho fatto io magari guarda cosa ha combinato il nonno tutto così tu lo puoi fare il video del genere guarda che disastro signor mangia mele che cattivo